Le sensazioni sono molto positive, i ragazzi li conosco quasi tutti, sono tutti degli amici. Le sensazioni, ripeto, parlare di sensazioni adesso è difficile, però lavoreremo, lavoreremo per far bene, lavoreremo sicuramente per ottenere prima possibile la salvezza, per stare tutti più tranquilli. Come ho detto prima bisogna lavorare, bisogna lavorare tanto, lavorare bene, perché la 2 già l'anno scorso ci ha fatto vedere comunque che il livello è abbastanza alto e tutte le squadre sono attrazzate, perciò ogni partita deve essere una battaglia, dobbiamo sicuramente sfruttare il fattore campo, queste sono partite che comunque, questo è un campionato che puoi vincere con la prima in classifica e perdere con l'ultima, perciò è giusto che comunque siamo concentrati partita dopo partita e cercare di ottenere il massimo, quello che può essere il fattore campo, ripeto, come la cittadella, che per noi deve essere...